Fantapolitica a circa nove mesi dal parto delle elezioni amministrative che coinvolgeranno anche Avellino Capoluogo, mentre il sindaco Festa punta a rafforzare le liste civiche di supporto, centrodestra e centrosinistra, che difficilmente potranno rinunciare ai simboli in concomitanza con le elezioni europee, faticano a trovare i candidati apicali da opporre. Nelle ultime ore nel centrodestra il dibattito si fa frizzantino, Fratelli d'Italia, dopo l'incremento del tesseramento, si prepara ad accogliere domenica ad Avellino in video, collegamento Meloni, che chiuderà con le riflessioni sull'operato del governo la due giorni del partito. Sul piano locale, ieri l'onorevole Gianfranco Rotondi ha fatto più di un nome, quello di Rino Genovese, giornalista Rai, sarebbe di convergenza tra partiti e associazioni che animano il centrodestra. Il fatto stesso che venga ipotizzata la candidatura di una figura, si direbbe, della società civile, di un giornalista che peraltro ha un consenso e un gradimento trasversale, dice che il centrodestra è in corsa. La figura di Rino Genovese è anche identitaria, perché è stato uno dei fondatori del centrodestra di Avellino, sul versante democristiano, è stato vice sindaco di Mercogliano. Ci sono sicuramente delle figure che sono state ipotizzate dal coordinatore di Fratelli d'Italia, che sono altrettanto identitarie e altrettanto professionalmente capaci. Penso a Modestino Iandolo, al dottor Vincenzo Sbrescia, all'amico Giovanni D'Ercole. Se ci fosse una convergenza non ci sarebbe bisogno di primarie? Certamente, ma io vedo un clima di grande collaborazione. Nel centro-sinistra, nonostante l'opposizione sin dalla prima ora in consiglio comunale, il PD fatica a trovare l'antifesta. Lo scontro del Lucas Lane starebbe facendo rinviare fino anche il congresso regionale. Sarebbe l'ennesima frattura tra componenti e potrebbe risolversi sui territori nel non cambiare nulla rispetto allo status quo. Ad Avellino, se questo rimanesse il contesto, le quotazioni del segretario provinciale Nello Pizza per una candidatura di consenso unitario sarebbe la più forte, avendo egli stesso lavorato e favorito il campo largo. Avendo, nonostante tutto, a cominciare dai malumori personali di quanti lo tiravano per la giacca, rappresentato un punto di sintesi tra Petracca e Buonopane, almeno in passato. Che vi sia a sinistra del PD un nome altro è al momento cosa scontata, ma resta pur sempre fantapolitica a nove mesi dalle elezioni. Il travaglio dei candidati sindaco per gli schieramenti antifesta prosegue.